Buon televidente, noi stai bec, adesso conosciamo di conversare con Waderval toccanti i tambi edion e le insi toccanti di e comedia coi n e ora che noi stiamo in bellezza del studio e io cevo già sabato che siamo a chiamare la cittorina SkyCómo ha panito? Oh è e e e e chi dice? E chi dice? Se chi dice? E chi dice? E quello che dice? No, noi stiamo facendo un ceritamento e noi stiamo facendo una stessa di Marvelene e noi stiamo con allenamento di minuto Marvelene, una felice tardi, vierei come aggiungo della stagness Thank you Andrew, per aver sapato il mio venuto dai luglio e non ci sono felice dei mostri di dubbi quanto a noi ci accertiamo a questa questa? il nostro cliente, il nostro cliente, è accertamento in due parte in merdia di un'ora per 5 ore, e abbiamo in categoria di ladle con un mes printino in cura sol quindi è in una nuova per 5 ore, la Holiday Beach è in parte di nocci, settore, per ciò di nocci e in categoria di mes printurism e con mes printurism in cura sol 2017 ok, la nostra cosa è promettola è ladle, mes printino, mes printino e se non ci accertiamo, quanto è l'età Noi abbiamo il Lidl, Lidl è di 7 per 10, e Pritin è di 31 per 34. Ok, quindi ci sono quanti partecipanti in cada categoria competi? Competiti. In categoria di Lidl ci sono 2 partecipanti, e in categoria di Pritin ci sono 8 partecipanti. Buona settimana, ci sono di Mestin Tourism, e con Mest Tourism Curacao. Esatto, ci sono molti anni e quanti partecipanti? Nosti in Mestin Tourism Curacao, quindi sono 5-7 anni, ci sono 6 partecipanti, Mest Tourism è 18-27 anni, ci sono 4 partecipanti. Ok, prima cosa ci sanno, ci sono più informazioni che ci sono, ci sono gli altri, ci sono la mia giornata, ci sono le loro giornate, ci sono le loro giornate, ci sono ieri, ci sono le loro, ci sono le loro, ci sono ieri, 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 che cosa ti piace? Buon appetito! Sono il venente presente Sono la mia caratteristica e mi sono la mia caratteristica e mi sono la mia caratteristica il 7 ottobre 1 ore 5 ore Caratteristica, non conosci ma non conosci ma non conosci ma non conosci Ah, ho capito Noi sono un po' piccici Quanto hai visto a te? Qual è il nome? Kiani Bros Quanto hai Kiani Bros? 7 anni Mi ha visto a te che Kiani gusta? Mi gusta bailare e cantare Ok, ma la mia caratteristica Buon tardi Televidente Mi chiamo Gigiani Leolina Mi sono 14 anni e mi sono partecipante numero 2 per la mia caratteristica 2017 Ok, e la mia caratteristica Buon tardi Televidente Mi sono Miss Winnie van derveen Mi sono 15 anni di edad e mi sono partecipante numero 5 per la mia caratteristica Buon tardi Televidente Mi sono 28 anni di edad e mi sono partecipante numero 1 per la mia caratteristica Amina Quanto hai visto anche la mia caratteristica Doc, come ti? Anche la mia caratteristica Mi se piace Ma sia la mia caratteristica E la mia caratteristica L'onore Carriamo Per il momento Cosa ti ha fatto? E' il processo che ti ha fatto anche? Cosa va? Proceso è molto buono, ci sono preparazioni, ci sono parlanti, ma non ci sono preparati per il giorno 7. È molto buono preparati Ma è anche buono ci sono diversi cose, ci sono delle condizioni, di workshop ma, bene, chi è una cosa che si è davvero importante, con il conocimento? cosa è che mi aiutare? cosa sia un workshop di pubblica? un workshop di pubblica e io sono molto timido e io ho pratico questo gioco e mi compagno con il pubblico Carriè, guardando come voi adrienti certamente e vorrei che vi faccio le cose diverse che cosa vuoi dire a cambiare il gioco? per me qua va a fare vabbè 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 non vabbè 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 La parte del modelaggio, la parte del papi aiutava con un cambio Ma io ho fatto un po' che qui tu e il mio francesco Come vai cercare il processo? Come va a cercare la sua parte? È una buona? È una buona? È una buona scuola? È una buona scuola No, non è scuola in francesco Ma non è così, non è così ma cosa si fa? si, ma che mamma e papà avisa? non avisa non è ancora però non avisa si con i bambini ok, è molto bello ora io ho tantissimo marvoli non lo sapevo io ho tantissimo marvoli io devo essere molto bello che io ho visto tantissimo marvoli è la mia cosa è la mia cosa, è la mia cosa si, si engaia tanto marvoli aiuto il nostro hobby in questa temporada qui iniziamo a cominciare la nostra obvisa da 0 e ora è qui la nostra obvisa ora non so se vende tanto marvoli nella casa o anche non so ora qui se vende per avisa di buon corazon e di verda che cosa va avisa ora qui? ovvi danki di tanto aiuto il nostro hobby master ma nera è la vita non so cominciare di 0 ora che noi stavano certamente con un 10 public speaking ora noi stavano ora noi stavano se noi pubblic speaking si è preparazione ma prima che noi stavano nerviose o che noi stavano che noi stavano ora pubblic speaking quindi perciò perciò che ci sia il nostro perciò 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 e che non conoscevo solo il corpo. Non so perché non sono abbondanti, non sono abbondanti ai miei figli. Marverine, guardando il tour emozionato qui, ti sento un'altra cosa con un'emozionato? Si, sicuramente. Se, secondo te, non c'è anche un'altra cosa, non c'è un gruppo che mi ha trato più facile, non c'è sempre a prendere suprimazioni per il mio vita Mi ha portato il regno, non è da, ma non c'erano, ma non c'erano. Se avessero tutto i giorni, quando si avessero tutto il momento, dove hanno fatto un gruppo di workshop, hanno fatto un commento che noi, non c'erano un esempio, e ora è un'esatrice. Già sabrò ora, è un momento che, io ho detto che il lavoro è stato molto, tutti i giorni, 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 già sabrò ora. Sì, 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 sì. di oggi. Ok, quindi ora che ci costa, quindi ci costa l'ultima cosa, cosa cosa facciamo? Prepariamo oggi, o c'è il workshop di oggi? No, non c'è un training general, ma di ogni giorno è parte di baile e di opening, circa due differenti coreografi, come la NICA, la parte di Lidl e Pritin, e anche il Kevin, la parte di Tinn e il mes. Quindi ci sono anche coreografi, in cui si accadeva tutti i giorni a tutti i giorni in generale di trening per sub-stage già sabre. Che cosa vuoi fare la notte? E la notte è che già sabre, che va a fare un show estupendo, un show estupendo, un show estupendo che va a fare un luogo già sabre? Corretto. E' una candidata a mezzo, che va a fare un tremendo show, che va a fare una preparazione con una arraia, che va a fare anche da Explosion Dancers, che va a fare un show di parte di Leder Capri, che va a fare un sonno, che va a fare un canto. Che va a fare un canto, che è ritori, non è che non è sonno. Si, sonno è che è un canto. che è un canto. E' un parto di Tini, che va a fare un gruppo ritmico, che va a fare un canto. Ok, che va a fare un canto. Ok, che mi sono andata, che va a fare un canto. È già sabre ora, che cominciamo la produzione di Marvelous Productions. Marvellous Productions. Marvellous Productions. Marvellous Productions. Che com'è? L'ospospera DJ. Correcto. Fordi è partecipante, non? Tu ti vai competir già sabre ora, non lo vai sacar alguno, lo vai representare per un altro anno, che è anche in exterior. A teori, l'altro anno che è, non lo vai cominciare, con una categoria, Fordi Baby, te con signora. E' una cosa che noi facciamo. che la facciamo. Ma lo facciamo. E' una cosa che ha dato, che è un po' di essere iniziale, non? E' una cosa che mi chiede, e bisogna scegliere il Ifrano che mi chiede, poichara, e doveva. E' un po' di essere iniziale. Mirà lo facciamo. Ma ecceci. il nostro corso il nostro corso gratuito e io sono andato anche per il nostro canale. E io ho provato anche a Dante per l'opportunità di brindare a me per il maestro di cerimonia. E io sono andato per accepter l'invitation. Ok. Alla prossima è il nostro canale. Questa è un'esito. Il primo è il nostro canale. 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 Alla prossima è il nostro canale Ma kita ha vinto il nostro canale. La notte è la notte. Solo no. Alla prossima è il nostro canale. Siamo iniz Perché la nostra prana del sociale. Nel nostro canale. Alla prossima è il nostro canale. È il nostro canale. Alla prossima è il nostro canale. E voi rimassate il nostro canale. Oh no d'amore! Non ce l'entere da scambio! Ehi, due! Ehi! Non c'è più presto! Mi fibre! Quella sono fredda! Che che c'è più straddolo! Ehi! Ehi, ehi! Ti presenti! Ti presenti? Ehi, dei temi! Ehi, dai anche! A tutti di viaggio di show! Questo attraverso esplosato come la versione di back ز 주 tu che ho detto in seguito! Ah